Massimo Oddo potrebbe trovare a breve una panchina per questa stagione, curiosamente proprio con la squadra che dopo domani sarà sfidata dal Pescara in Team Cup, il Brescia. Per le rondinelle queste sono state ore decisive per il passaggio della società dal patrono uscente Marco Bonometti a Massimo Cellino, ex presidente del Cagliari, passaggio che si è concretizzato nell'ultima notte. Con la nuova proprietà potrebbe esserci un rinnovo dello staff tecnico e Roberto Boscaglia, richiamato quest'anno alla guida del Brescia dopo la parentesi di Novara, rischia di essere avvicendato dall'ex allenatore del Delfino. Difficile che questo avvenga prima del match di Team Cup, magari potrebbe avvenire nelle giornate successive, un processo che sarebbe accelerato in caso di vittoria del Pescara o comunque di prova non eccelsa dei Lombardi. Prima di un eventuale nuovo incarico Oddo dovrà comunque rescindere il contratto che lo lega al Delfino fino a giugno 2019. Intanto il Pescara continua a lavorare con la seduta mattutina odierna e l'amichevole in serata a Pineto. A Brescia non ci sarà ancora Leonardo Mancuso che al pari di Bruno sta facendo terapie da valutare Zampano che ieri si è fermato per affaticamento muscolare. Al Rigamonti potrebbero nuovamente mancare, come avvenuto con la Triestina, quei giocatori al centro di trattative di mercato in uscita. In particolare Benali, Biraghi e Memushai. Il giocatore anglo-libico sta per legarsi alla Sampdoria e attende ulteriori sviluppi dalla vicenda Schick col centravanti cieco che sta riottenendo l'idoneità e a breve potrebbe chiudersi la trattativa per la sua cessione all'Inter, il che agevolerà quella di Benali al club di Ferrero in prestito con diritto di riscatto. Si fa invece caldissimo l'asse Benevento Memushai. Gli stregoni neopromossi in A sono vicinissimi a chiudere l'accordo col Pescara con un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Più defilato ora il Sion. Su Biraghi, oltre al Cagliari, ha effettuato un sondaggio anche il Sassuolo che già nelle settimane precedenti si era interessato al terzino Scuola Inter. Piccola asta per Michele Fornasier, sull'ex difensore Doriano si è fiondata la Ternana che sfida ora Lascoli. Zampano è nel mirino dell'Udinese ma il Delfino chiede due milioni. Cessioni che possono ulteriormente sbloccarsi visto che in queste ore il presidente Sebastiani sta rientrando in città dopo alcuni giorni di vacanza. Sul fronte delle entrate resta forte l'interesse sull'attaccante esterno del Palermo, Carlos Embalo, mentre si attendono sviluppi per la mezzala dell'Atalanta Matteo Pessina, su cui c'è sempre la concorrenza dello Spezia, ma gli orobici, dopo aver preso Deron, possono lasciar partire il giovane centrocampista prelevato dal Milan.